In questo tutorial vediamo come risolvere problemi parametrici con l'uso di sistemi lineari. Partiamo da questo esempio. Per quali valori di a e b i seguenti polinomi a di x e b di x sono identicamente uguali? Affinché due polinomi siano identicamente uguali, dobbiamo applicare il principio di identità dei polinomi, ossia i coefficienti dello stesso grado dei polinomi devono essere uguali tra di loro. In altre parole, il coefficiente di x cubo di a di x, ossia 2a più b, deve essere uguale al coefficiente di x cubo del polinomio b di x e allora devo imporre che 2a più b deve essere uguale al coefficiente di x cubo in b, ossia a. Devo inoltre imporre che il coefficiente di x quadro in a di x, ossia b meno a, deve essere uguale al coefficiente di x quadro in b di x e quindi vado a scrivere b meno a deve essere uguale a 2b meno 1. Controllo inoltre che il coefficiente di x in a di x, ossia meno 3 è uguale al coefficiente di x in b di x, ossia meno 3 ed infine il numero in a di x deve essere uguale al numero in a di x. Se ad esempio questi due numeri meno 3 e meno 3 oppure meno 1 e meno 1 fossero stati diversi tra di loro, certamente i due polinomi non potevano essere uguali tra di loro. Sfrutto ora queste due relazioni per andare a determinare a e b risolvendo il sistema. Dalla prima relazione esplicitiamo il valore di b ottenendo b uguale meno a e sostituiamo qui nella seconda equazione. Ora meno a meno a è pari a meno 2a. Ottengo meno 2a a sinistra e a destra che posso semplificare tra di loro e quindi ho 0 uguale meno 1. Ottengo così un'equazione impossibile e allora complessivamente il sistema sarà impossibile. Questo mi fa capire che non esistono valori di a e b per cui questi due polinomi risulteranno identici tra di loro. Per quali valori dei parametri h e k i due polinomi sono identicamente uguali? Per risolvere questo esercizio dovrò applicare il principio di identità dei polinomi. Devo garantirmi che il polinomio ad x e b di x però devono essere scritti in forma canonica. Osservo che qui ho un x meno 1 al cubo che devo sviluppare e quindi devo andare a riscrivere il polinomio ad x. Dopo aver sviluppato questo cubo di binomio riscriviamo ad x in forma canonica. Ora posso applicare il principio di identità dei polinomi, ossia il coefficiente di x cubo in ad x deve essere uguale al coefficiente di x cubo di b di x. Avendo 1, 1 ho già un'uguaglianza e quindi non devo fare nulla. Devo poi imporre che il coefficiente di x quadro di ad x, ossia h meno 3, deve essere uguale al coefficiente di x quadro in b di x, ossia 2k meno 5. E allora la prima relazione sarà h meno 3 uguale 2k meno 5. Devo poi imporre che il coefficiente di x in ad x, ossia 5, deve essere uguale al coefficiente di x in b di x e allora devo scrivere 5 uguale k meno 2h. Infine controllo se i numeri sono uguali tra di loro. In ad x il numero è meno 1, in b di x il numero è meno 1 e quindi ho questa identità che è verificata. Se i numeri fossero diversi, certamente i due polinomi non potevano mai essere uguali tra di loro. Ritornando alle due relazioni che ho determinato, mettendole a sistema, posso andare a determinare il valore di h e di k. Esplicitando il valore di h nella prima equazione, sostituendo qui al posto di h 2k meno 2, otteniamo un'equazione in k che andiamo a risolvere. A conti fatti si ottene k uguale meno un terzo. Sostituendo qui al posto di k meno un terzo, otteniamo h uguale meno 8 terzi. Per quali valori dei parametri h e k è verificata la seguente uguaglianza? Prima di tutto eseguo il minimo comune multiplo qui a destra. Ed ora al numeratore raccolgo i termini simili. Osservo invece che a denominatore x alla seconda meno x meno 2 risulta essere proprio uguale ad x più 1 per x meno 2. E allora vado a semplificare i denominatori. A questo punto posso applicare il principio di identità dei polinomi e quindi il coefficiente di x del primo membro deve essere uguale al coefficiente di x del secondo membro. E allora vado a scrivere 2 uguale h più k. E poi il termine noto del primo membro, ossia meno 3, deve essere uguale al termine noto del secondo membro, ossia k meno 2h. E allora andrò a scrivere meno 3 uguale k meno 2h. Ottengo così un sistema in due equazioni in due incognite che vado a risolvere. Esplicitando il valore di h nella prima equazione e sostituendo qui nella seconda equazione, otteniamo un'equazione in k che andiamo a risolvere. A conti fatti si ottiene k uguale 1 terzo. Determinato il valore di k, sostituendo qui 1 terzo, si ottiene h uguale 5 terzi. Per quali valori dei parametri a e b è verificata la seguente uguaglianza? Prima di tutto eseguirò il minimo comune multiplo nel secondo membro. Osservo innanzitutto che x meno 2 per x più 2 è uguale a x alla seconda meno 4 e allora semplifico questi due denominatori identici tra di loro. Qui ora, a numeratore, raccolgo la x. Affinché questa uguaglianza venga verificata, devo applicare il principio di identità dei polinomi. Affinché queste due quantità siano uguali tra di loro, dovrò applicare il principio di identità dei polinomi e quindi il coefficiente della x del primo membro deve essere uguale al coefficiente della x del secondo membro. Nel primo membro x non c'è e quindi posso pensare 0 per x più 1. In altre parole, devo imporre che il coefficiente della x, 0, deve essere uguale al coefficiente della x del secondo membro che è uguale ad a più b e quindi scrivo 0 uguale a più b. Poi impongo che il termine noto, ossia 1, deve essere uguale al termine noto del secondo membro 2a meno 2b e quindi scrivo 1 uguale 2a meno 2b. Ottengo così un sistema in due equazioni incognite che vado a risolvere. A conti fatti si ottiene a uguale 1 quarto, b uguale meno 1 quarto. Vediamo quest'ultimo esempio. Determina per quali valori dei parametri a e b è verificata la seguente uguaglianza. Innanzitutto eseguo il minimo comune multiplo nel secondo membro. Osservo innanzitutto che x meno 1 per 2x più 3 a conti fatti è uguale a 2x alla seconda più x meno 3 e quindi posso semplificare i denominatori. Ora qui, a primo membro, metto in evidenza una x. Per determinare il valore di a e b affinché queste due quantità siano uguali tra di loro, devo applicare il principio di identità dei polinomi e quindi il coefficiente della x del primo membro, ma a primo membro non c'è una x e quindi posso pensare scritto come 0 per x più 2, deve essere uguale al coefficiente della x del secondo membro e quindi 0 dovrà essere uguale a 2a più b e quindi ottengo in questo modo la prima relazione. Poi devo imporre che il numero, ossia 2, deve essere uguale al numero presente dall'altra parte, ossia 3a meno b e quindi scrivo 2 uguale 3a meno b. Ottengo così un sistema in due equazioni in due incognite che vado a risolvere. Dopo aver esplicitato il valore di b nella seconda equazione e sostituendo qui nella prima equazione, a conti fatti si ottiene a uguale 2 quinti. Sostituendo qui nella seconda equazione al posto di a 2 quinti, a conti fatti si ottiene b uguale meno 4 quinti. E con questo termino il tutorial su come poter andare a risolvere problemi parametrici con l'uso di sistemi lineari.